Mauro Febbo ha presentato a Roma la festa nazionale dei borghi autentici di Barrea. L'Abruzzo ha dichiarato dispone di un enorme patrimonio naturale, fisico, sociale e culturale dato dalla presenza di borghe autentici e centri d'arte che fanno di questa regione un territorio ambito tutto l'anno per ogni tipo di turismo. Festa nazionale dei borghi autentici si svolgerà a Barrea dal 30 agosto al 1 settembre prossimi. Alla conferenza stampa che si è svolta nella sede delle associazioni abruzzesi hanno partecipato il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paisaggio, Francesco Di Filippo, il vicepresidente vicario dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, Gianfilippo Mignogna, il vicepresidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Augusto Berile, il sindaco di Berrea, Andrea Scarnecchia. La caratteristica che fa del nostro un paese unico al mondo, ha detto Febbo, è quella di essere stati luoghi in cui la cultura materiale, sociale e storica, specifica di ciascun territorio, si sono incontrate ed hanno costituito un unicum di paesaggi e di borghi che sono riconosciuti a livello globale quali detentori di valori universali e di imperituri di bellezza, armonia ed unicità. Quella dei borghi autentici d'Italia costituisce l'identità di un territorio in grado di contribuire alla valorizzazione di un paesaggio non più considerato statico, ma in divenire, risultato delle attività che in esso si svolgono al punto da trasformarlo e generare nuovi paesaggi. Una trasformazione che deve però conservare l'antico paradigma dell'armonia tra le diverse dimensioni del vivere, anche favorire lo sviluppo di modelli che sappiano incorporare il paesaggio stesso nella dimensione dell'ospitalità. Ora ascoltiamo Mauro Febbo in questa breve intervista. La Bruzzo è ricco di borghi che valgono la pena farli conoscere, e quindi uscire dalle mura regionali e fare ingresso su un parterre nazionale e internazionale importante, peraltro una location che merita tutta la massima attenzione. La Bruzzo è ricca di questi borghi, è ricca di questi ambienti, è ricca di questi valori che devono essere portati all'attenzione. Io credo che poi a questo vada aggiunto un altro tassello di cui la Bruzzo ne va orgoglioso, che è l'enogastronomia, che chiaramente ha la possibilità di esplodere quando si fanno queste manifestazioni, soprattutto perché c'è un'attenzione da parte della Regione anche alle microeconomie che comunque devono cominciare a risultare più attive e più presenti nei territori, soprattutto per dare anche risposte importanti ai nostri giovani. Nell'ambito delle iniziative programmate per la settimana marsicana da segnalare un progetto importante che presenterà la collega Katia Scolta. Di cosa si tratta? Allora, domenica 4 agosto, con inizio alle 21, nell'ambito della settimana marsicana presenteremo questo progetto, un evento tra bellezza e sociale. Importante ci tengo a rimarcare proprio lo spirito solidale di questa iniziativa. Un'iniziativa che nasce da una idea, da una giusta intuizione del fotoreporter Antonio Oddi e che è giunta alla seconda edizione. Lo scorso anno è stata incoronata la bellissima Ilaria Di Paolo, una ragazza che ha portato il suo sorriso in giro per la Marsica, nelle case di riposo, negli ospedali, tra i bambini e ha portato un messaggio di solidarietà, un messaggio di vicinanza importantissimo per coloro che soffrono, che si trovano in una situazione di difficoltà sia stabile che momentanea. Quindi quest'anno si vuole ripetere questa stessa iniziativa leggendo la Reginetta del Sorriso 2019. Saranno proprio i ragazzi dell'Anfas, ricordiamo l'Anfas è l'Associazione Nazionale delle Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e Relazionali e saranno proprio loro i veri protagonisti di questa iniziativa. Da navigata collega, un po' anticipato tutte le domande che volevo farti, comunque ecco, da mettere in risalto, credo un aspetto importante, quello della solidarietà. Sì, assolutamente, è fondamentale ed è questo il vero spirito dell'iniziativa. Del resto, io ho accolto con piacere la richiesta di presentare il progetto pensando proprio al valore di un sorriso. E qui mi viene in mente la poesia di padre Faber, il valore di un sorriso, quanto è importante, non costa nulla e rende molto. E quindi diciamo che tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto le persone in difficoltà, ma ne abbiamo bisogno nella vita quotidiana, nella famiglia, nell'amore, nell'amicizia. Quindi sorridiamo di più e portiamo noi questo messaggio di speranza. Per questo vi aspetto numerosi nell'ambito della settimana marzicana, che si chiude proprio domenica. Già da adesso sta risuotendo largo successo da parte del pubblico, quindi spero di avere tutti numerosi, anche per questa presentazione che faremo domenica nella giornata di chiusura. alle 21 in punto, perché dopo ci sarà un appuntamento musicale, quindi vi aspetto tutti. Oltre a presentare questo progetto, mi sembra, anche da come lo hai descritto, sei coinvolta emotivamente. Sì, perché sono comunque delle iniziative che sono molto toccanti. Poi vedrete, per chi avrà la possibilità di partecipare, racconteremo proprio delle esperienze di vita, di vita vissuta, delle storie, vi racconteremo delle storie molto toccanti. La reginetta sarà stata selezionata in base a delle caratteristiche particolari, per cui sarà una protagonista, un'elezione particolare di quest'anno. Poi con noi scoprirete il perché. Allora, un invito a scoprire, ma soprattutto a vedere che cosa succederà. Sì, certo, per questo vi aspetto domenica, per dare sostegno intanto ai ragazzi dell'Anfas, che, come dicevo, sono i veri protagonistici, tengono molto a questa iniziativa. Tra l'altro poi saranno realizzate delle cartoline, il ricavato si cercherà anche di contribuire con il 5x1000, anche nei confronti dell'associazione. Per cui c'è tutto un risvolto, al di là della bellezza, della passerella, c'è un risvolto che è di vicinanza, di solidarietà, di volontariato, che è fondamentale. Ringrazio la cura che ti ascolta e aggiungo soltanto che l'Anfas è un'associazione che merita rispetto e attenzione. Pietro Grasso sceglie Avezzano per la presentazione del suo libro e lo fa nell'ambito della settimana marzicana che impreziosisce così ulteriormente il proprio carne di eventi già di per sé di assoluto valore. L'ex presidente del Senato, nel casino di caccia presso l'ex struttura Arza, ha presentato il suo ultimo lavoro, Storie di sangue, amici e fantasmi. Un libro che alza ancora una volta il coperchio del calderone delle associazioni mafiose coinvolte in qualche modo nel maxiprocesso e ce ne mostra dinamiche, personaggi, eroi ed antieroi. Due eroi su tutti, Falcone e Borsellino. Pietro Grasso ci racconta della sua collaborazione con i due magistrati, ma ancora di più ci racconta dell'amicizia, dell'affetto e della stima che i tre hanno reciprocamente condiviso durante le indagini di quello che è stato poi un processo che ha cambiato a tutti gli effetti la storia d'Italia. Non è un romanzo, è il racconto minuzioso di fatti e eventi che hanno visto coinvolti più famigerati ed efferati, boss che l'Italia ricordi. L'interrogatorio di Provenzano, la cattura di Totò Orrina, ma anche le paure e le preoccupazioni che Grasso ha vissuto sulla propria pelle durante gli anni tremendi degli attentati mafiosi a uomini di Stato e non solo. A distanza di due anni dalla pubblicazione, guardandosi un po' indietro, il libro è stato forse anche una valvola di sfogo per le emozioni che lei ha dovuto tenere a freno durante il lavoro da magistrato. E se sì, quanto è stato difficile tenerle a freno, tenerle ferme? Il libro viene proprio da questa esigenza di partecipare a questi sentimenti, queste emozioni, questi rapporti, non solo con Falcone e Borsellino perché contiene anche dei ritratti, dei medaglioni di tanti altri magistrati, colleghi, amici, forze di polizia, giornalisti, gente con cui ha avuto occasione di lavorare e che sono stati uccisi da Cosa Nostra, dalla mafia e quindi la necessità di lasciare questa memoria e devo dire che io mi emoziono sempre, continuo a emozionarmi quando penso alle difficoltà che hanno affrontato loro e mi aiutano a superarle, le mie attuali. Il Pietro Grasso di 30 anni fa ormai più o meno, è il Pietro Grasso di adesso, è più ottimista quello di adesso o pessimista alla lotta alla mafia su questi argomenti? Per me è sempre stato valido quel pessimismo della ragione, ottimismo della volontà, nel senso che a guardare la realtà c'è da essere pessimisti, ma la volontà, la voglia di resistere, di continuare deve essere sempre presente e questo è quello che mi spinge e mi continua a spingere a impegnarmi nella ricerca della verità, nella giustizia. Quelli che erano i valori che mi hanno spinto all'attività di magistrato, sono rimasti assolutamente identici e che ora vengono praticati anche se in una funzione che ho fatto prima come Presidente del Senato da un punto di vista istituzionale, ma adesso anche come politico, perché io sostengo che anche la politica deve riconoscere e praticare questi valori, soprattutto oggi. Dopo la presentazione della giornalista Luisa Novorio, si sono alternati ai microfoni per i saluti di rito il commissario prefettizio Mauro Passerotti e il Presidente della Prologo Edoardo Tudigo. Come nel libro, apro e chiudono l'evento lettere che Grasso scrive a Falcone Borsellino. Il delicato ruolo di reggere le parole del Presidente è affidato a Corrado Oddi, attore marzicano che incanta e commuove il pubblico presente. Anche l'arte è importante e fondamentale per il ricordo di personaggi come Falcone Borsellino e per sensibilizzare l'anima delle persone? In questo caso ha un doppio valore, cioè quello di rappresentare una cosa in maniera artistica e di veicolare un aspetto culturale che è quello della lettura, quindi invogliare il lettore all'acquisto e alla lettura del libro su personaggi come Falcone e Borsellino che adesso si fa un po' fatica a portare avanti perché le nuove generazioni non conoscono più l'impatto alla faccia di Falcone e il viso di Borsellino, mentre negli anni 70 e 90 e quando c'è stato tutto quello che c'è stato nel 92, era lampante come appariva l'immagine di Falcone la riconoscibilità, l'identità. Quindi parlare di queste persone che sono state degli esempi e non degli idoli, quindi delle persone che hanno sacrificato la loro vita per noi, per la gente comune, per la popolazione, per la giustizia è importante, è fondamentale. Ovviamente lo fa un personaggio che è stato uno dei appartenenti al pool antimafia come Pietro Grasso, come tanti altri. Lo fa in amicizia, ho letto le lettere che lui ha scritto sia a Falcone che a Borsellino e viene fuori questo forte stato d'animo, questa forte amicizia che li legava, ma anche soprattutto questa ironia che portava avanti sia Falcone che a Borsellino. C'è un aneddoto nel libro Cose di Cosa Nostra dove Falcone a un certo punto dice mi viene a trovare l'amico Paolo Borsellino a casa e mi dice senti Giovanni, mi devi dare le chiavi della cassaforte dove ci sono i documenti degli atti processuali e lui gli dice ma che ci devi fare? Ma non lo so, se domani ti ammazza io come faccio a prenderli poi? Quindi c'era questa grande ironia che gli univa, una grande amicizia e poi era gente che ha lavorato e ha fatto il lavoro nel quale credevano, hanno creduto per tutta la vita con grande passione e con grande professionalità. Quindi per me è un onore questa sera poter leggere questi estratti, queste due lettere nella città dove vivo, che è Avezzano, quindi voglio ringraziare la Prologo che mi ha coinvolto in questa iniziativa e spero di essere all'altezza. La manifestazione è proseguita con le letture di Pietro Grasso e con un dibattito che ha visto coinvolti l'annovorio, il commissario prefettizio, Edoardo Tudigo e il presidente stesso che ha risposto alle domande sul libro, sulla sua vita da magistrato e sul maxiprocesso che lo ha visto coinvolto personalmente. Siamo con il micologo Stefano Maggi, micologo della ASL, socio della GEMED, esperto del gruppo micologico abruzzese. Una lezione importante sui funghi. Peccato che i funghi, insomma, quest'anno... Non ci sono, no, beh, adesso speriamo che ripiova ancora perché c'è stato un bel temporale la settimana scorsa, però bisogna aspettare. È sufficiente? Forse in alta quota, sotto Faggeta a 1.400-1.500 metri, considerate le temperature ancora abbastanza elevate, nei posti più umidi secondo me si trova già qualcosa. Sei avviso alle lezioni con il gruppo Micologio, ma anche in altri aspetti, in altri della vita sociale, perché sei sempre invitato. Però ecco, parlare oggi di Micologia con queste persone presenti, le note fondamentali. Sì, prima di tutto una sintesi sui accenni di Biologia e Ecologia Fungina per far capire, soprattutto alla gente che non è del mestiere, che non conosce bene i funghi, l'importanza a livello ecologico del fungo, quindi la conoscenza dell'habitat, il rispetto per la natura e anche alcuni consigli per i raccoglitori in modo da non creare danni all'ambiente, visto che il fungo è un elemento essenziale per la vita boschiva e non solo, anche praticola, insomma. Non solo per l'ambiente, ma anche che sia fondamentale poi far capire le norme comportamentali per evitare quantomeno gravi intossicazioni. Intossicazioni, quindi il consiglio che do sempre, nel caso di dubbio, anche il minimo dubbio, o farli controllare da un esperto micologo, possibilmente un micologo dell'ASL, perché praticamente è in grado anche di certificare l'eventuale commestibilità o meno del fungo e comunque, nel caso di dubbio, di non arrischiare, di non azzardare nel consumare funghi che non si conoscono alla perfezione. L'andamento climatico è veramente anomala. Con l'ASL come siete messi? Ancora non è stato deciso nulla? Sì, no, è stato già istituito. Quest'anno siamo partiti a giugno, ho fatto qualche certificato i primi di giugno, perché maggio è stato piovoso. Dopodiché adesso la siccità ha bloccato un pochino l'attività. Però il servizio è sempre aperto, tutti lunedì e giovedì pomeriggi, dalle 4 alle 6, presso la sala conferenza consigliare dei servizi veterinari in via Montevelino, fino alla fine di novembre. Quindi, ecco, diciamo, io spero che la stagione si riapra con le prossime piogge. Purtroppo i cambiamenti climatici hanno penalizzato soprattutto il settore micologico. Soprattutto sta cambiando il clima, senza ombra di dubbio. Io mi ricordo le prime mostre micologiche che organizzavamo con il GEMA, anche qui al Palazzo Arza, venivano già organizzate intorno ai primi di settembre, perché c'erano già delle stati abbastanza piovose. Considerate che diversi temporali conseguenziali sono in grado, soprattutto nel periodo di agosto, che fa ancora caldo, di far fruttificare diverse specie fungine. Purtroppo si sta allontanando sempre di più il periodo di crescita, quindi a volte si arriva a fine settembre, primi di ottobre, se non arrivano le piogge autunnali, purtroppo non sporificano, quindi non si raccolgono funghi e non si riesce neanche a fare didattica. Per concludere, già da qualche anno sei il responsabile del servizio ispettivo della ASL di Avezzano, hai detto che le persone interessate possono venire a far vedere i funghi, ma l'impressione tua in questi ultimi anni, ma hai trovato un po' l'approccio delle persone, la responsabilità o c'è ancora un po' di superficialità? No, io ho visto invece che stanno migliorando, hanno capito sia l'importanza del servizio, sia anche il pericolo che corrono in caso di consumo senza nessuna precauzione. Il fungo va purtroppo determinato, bisogna essere sicuri al 100% di quello che si mangia e vedo che almeno le persone che sanno, conoscono il servizio, vengono anche per consulenze scientifiche, a volte portano anche funghi non commestibili semplicemente per curiosità, interesse, cercare di ampliare la propria cultura e questo sicuramente è positivo dal punto di vista. Ultimo aspetto, credo che sia opportuno anche in questa occasione ribadire che il GEMA ad Avezzano organizza, tu sei uno dei docenti, corsi di micologia durante tutto l'anno, quindi c'è una buona opportunità per avvicinarsi con responsabilità al mondo dei funghi. Certo, non soltanto per l'acquisizione del patentino che è obbligatorio per la raccolta dei funghi nella regione Abruzzo, ma anche per ampliare le proprie conoscenze. Noi facciamo anche dei corsi specifici, il GEMA è sempre stato all'avanguardia da questo punto di vista e diventare soci di questa associazione sicuramente arricchisce il bagaglio culturale ed evita anche la possibilità di confusione con funghi tossici e velenosi. Ti ringrazio e speriamo nel cattivo tempo. Speriamo nel cattivo tempo, esatto, almeno per me. Un quartiere di 189 residenze costruito a Balsurano dopo il terremoto della Marsica del 1915 per accogliere il senza tetto che a causa del tempo e dell'incuria e della mancanza di fondi si trova ora in uno stato di abbandono e di degrado che ha fortemente penalizzato tutto il centro storico del paese e le abitazioni cosiddette provvisorie costruite con materiali e tecnologie identiche per tutti i comuni interessati del sisma, chiamate comunemente baracche. Nel tempo sono state per lo più abbandonate dalla popolazione ed hanno subito un deterioramento naturale trovandosi attualmente in uno stato di degrado e di trascuratezza. La Regione Abruzzo, su input dell'amministrazione comunale del centro della Valle Roveto, intende quindi avviare un progetto pilota finalizzato alla riqualificazione del quartiere Roma incaricando l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale Ater dell'Aquila di effettuare uno screening su di 11.500 metri quadrati che ospita 560 vani e proporre soluzioni di recupero. Una proposta di intenti su questo argomento è stata siglata a Palazzo Silone dall'assessore all'edilizia residenziale pubblica Guido Quintino Liris, il sindaco di Balsorano Antonella Buffone e il commissario dell'Ater Giambito Pappalepore, rappresentato dal direttore Venanzio Giffi. La Regione Abruzzo, l'Ater e il comune di Balsorano entro 30 giorni individueranno una cabina di regia coordinata dalla Regione Abruzzo composta da due rappresentanti per ogni istituzione che operano senza alcun onere per gli enti sottoscritti e che avrà funzione di monitoraggio e di indirizzo per la realizzazione del progetto e per l'elaborazione di programmi e proposte per le successive fasi di progettazione e di realizzazione dell'opera, non anche per regolarne i tempi di esecuzione. Ma adesso ascoltiamo l'assessore Liris. Come avrete notato ci stiamo dedicando molto all'edilizia residenziale pubblica, la cosiddetta edilizia popolare e in questo caso stiamo prestando la giusta attenzione anche alla periferia. Balsorano ha una realtà che è comune a tante altre zone della Marsica, in particolar modo della Valle Roveto che hanno subito il terremoto del 1915 e hanno costruito delle abitazioni post-emergenziali così denominate magari in gergo locale baracche. La sindacchessa, il sindaco di Balsorano ha espresso con attenzione, con grande volontà, con grande dedizione il desiderio di voler riqualificare l'area. È un'area evidentemente che merita un'attenzione perché è al centro di Balsorano quindi il deterioramento naturale nel corso del tempo ha certamente reanalizzato tutta l'immagine di Balsorano. Lavoreremo insieme per produrre dei progetti a livello tecnico ed economico e verificarne la fattibilità per poter poi riqualificare tutta un'area. Stiamo parlando di più di 11.000 nel riguardati con 189 residenze. È un'area molto vasta, ripeto, molto impattante anche a livello negativo perché ormai è deteriorata. La Regione coordinerà innanzitutto questi lavori iniziali che sono quelli di andare a verificare con l'ATER l'assessorato all'edilizia e residenza della Repubblica della Regione per quanto riguarda lo studio di fattibilità economica e tecnica quindi questo sarà promosso dall'ATER che lo finanzierà dopodiché evidentemente sarà tutto in capo alla Regione anche la modalità con la quale finanziare un progetto che a quel punto verrà fuori dagli studi dopodiché sarà la Regione a prendere in mano la situazione a concordare con l'amministrazione comunale e con i passaggi successivi. Sono cifre importanti, 5-6 milioni di euro se volessimo fare dei progetti che abbiano un impatto totale. Si è tenuto nei giorni scorsi a Roma a Palazzo Giustiniani il convegno le nuove sfide del turismo italiano le cui conclusioni sono state affidate al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gianmarco Centinaio il convegno organizzato dall'Osservatorio Parlamentare per il Turismo presieduto dal Presidente dello stesso Ignazio Abrignani ha visto la partecipazione di illustri relatori Al convegno è intervenuto anche Mauro Febbo coordinatore della Commissione Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Nell'occasione è stato analizzato lo scenario attuale ma soprattutto le linee programmatiche per il futuro del comparto produttivo che vuole riprendere con decisione la vita della crescita Ma ascoltiamo ora il Ministro Centinaio e l'assessore Febbo Sì, io domani incontro i balneari perché voglio far vedere il documento ai balneari voglio far vedere il documento che stiamo cercando di condividere con l'Europa con l'Europa abbiamo proposto un percorso di condivisione per evitare di andare in procedura di infrazione l'Europa si è resa disponibile la Commissione Europea si è resa disponibile a ragionare con il governo italiano io penso che già questo è una buona base di partenza perché se vi ricordate fino a qualche mese fa parlavamo di infrazione certa in questo momento non stiamo parlando di infrazione anche l'ultimo elenco delle infrazioni che è stato diramato dalla Commissione Europea non prevede gli stabilimenti balneari quindi vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di collaborazione e condivisione è normale che io sto ragionando sui 15 anni e poi vediamo che cosa succederà però oggi come oggi io ai balneari avevo fatto una promessa e io quella promessa la voglio mantenere i 15 anni e poi lavoreremo dopo aver ottenuto i 15 anni lavoreremo per cercare di uscire dalla direttiva Volkstein non avevo fatto altre promesse se qualcuno pensa di cambiare le carte in tavola venga a dirmelo domani che gli rispondo per le rime le nuove sfide del turismo sono state tracciate il turismo di solito va veloce anche se oggi tira molto il turismo lento ma chiaramente ci sono i turismi come è stato ricordato oggi dal Presidente Lenit mi è piaciuta molto la relazione del nuovo Presidente Lenit perché ha toccato passaggi importanti ha detto che il turismo non deve puntare più sulle solite mete ma deve arrivare anche su altri luoghi e questo richiede anche un ragionamento diverso sulle infrastrutture il turismo deve entrare nelle scelte sulle infrastrutture quando si parla di ferrovie quando si parla di aeroporti quando si parla di strade c'è un turismo che oggi viene dipinto in maniera diversa tant'è che viene chiamato i turismi perché ci sono tanti turismi a cominciare da quello lento da quello sostenibile da quello agricolo o rurale come si vuole chiamare che sicuramente è una fetta importante c'è quello culturale quindi voglio dire che il turismo deve essere in grado di oggi chi gestisce il turismo deve essere in grado di mettere insieme tutto questo per fare un'offerta diversa fino a quella che è stata fatta oggi L'Abruzzo secondo lei che vocazione ha? Più montano, più marino o tutte e due? No, l'Abruzzo deve avere la doppia vocazione dobbiamo cercare di avere un turismo di più lunga durata abbiamo le punte nel mese di luglio nel mese di agosto il turismo marino che dobbiamo intercettare e mandare anche le zone in tene poi abbiamo il turismo quello di montagna o quello di collina come lo vogliamo chiamare o un turismo rurale che si può effettuare durante tutti i mesi dell'anno e su quello che dobbiamo insistere come Rabruzzo ma mi sembra che anche l'indicazione che viene sul sistema Italia perché altrimenti non riusciamo a mantenere quelle cifre che oggi abbiamo e sono importanti che possono essere aumentate perché oltre le solite mete quelle importanti Roma, Firenze, Venezia eccetera l'Italia ha tanti turismi che possono fare accoglienza penso per esempio al ciclo turismo di cui siamo arrivati in ritardo e che dovremmo essere invece i primi promotori e l'Abruzzo lo è perché siamo l'unica regione che ha fatto dell'intera costa tutta una pista speriamo di riuscire a fare adesso i segmenti che portano all'interno e quindi portare verso la montagna Facendo il suo intervento qui oggi al convegno a Roma il ministro Centinaio ha detto che il governo vuole uscire dalla direttiva Bolkestein che è quella che prevede che le spiagge i litorali italiani siano assegnati a seguito a mezzo di offerta pubblica ecco l'Abruzzo da quale parte sta? No andando sulla Bolkestein noi ci siamo già espressi siamo anche noi contrari il problema è che purtroppo non si riesce a superare è stato fatto questo tentativo da parte del governo di scavalcare con una norma nazionale inserita alle finanziarie una proroga di 15 anni io credo che andremo in infrazione è chiaro che comunque su questo c'è piena sintonia tra il governo regionale tra il governo nazionale tra le organizzazioni quindi la nostra battaglia a Bruxelles la stiamo portando avanti la porteremo avanti perché mi sembra così intervenire così a gambatesa su un segmento economico che negli anni è stato costruito da tanti bravi imprenditori significa un danno enorme per la nostra economia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti